Il Consiglio Comunale di Ardesio nell'ultima seduta ha approvato il piano per il diritto allo studio. Come investe quest'anno l'amministrazione nella scuola? Sì, nel piano di diritto allo studio 2013-2014 ci sono vari tipi di intervento. Innanzitutto interventi tecnici che riguardano la copertura DSL per la scuola di Valcanale e la copertura wireless per la scuola elementare di Ardesio. Ricordiamo che la scuola media era già stata coperta da questo servizio l'anno scorso. Questo permetterà ai docenti l'utilizzo del registro elettronico che è un tipo di registro che è stato introdotto quest'anno dal Ministero. Sono stati stanziati 5.000 euro per quanto riguarda i libri di testo delle scuole elementari che ricordiamo sono a carico del Comune, circa 60.000 euro per quanto riguarda l'assistenza scolastica ai ragazzi con difficoltà di apprendimento, 4.100 euro per materiale didattico di pulizia per i plessi scolastici di Ardesio e di Valcanale e circa 7.500 euro per dei corsi per gli alunni accordati con la direzione scolastica che ringraziamo la preside e anche gli insegnanti che sono stati come al solito molto disponibili. In particolar modo i corsi riguarderanno corsi per lo sport, di judo e di sci di fondo, corsi di teatro, di danza e di musica e anche uno sportello di ascolto per quanto riguarda i genitori e gli alunni della scuola media. C'è stato qualche malumore per l'aumento delle tariffe relative al trasporto scolastico, come lo spiegate? Sì, allora, alcuni genitori sono venuti all'inizio dell'anno scolastico giustamente presso il Comune a chiedere perché sono state ritoccate all'insù le tariffe degli scuolabus. Vediamo di capire da dove derivano i costi dello scuolabus e quanti sono. Allora, il servizio di scuolabus costa in totale 89.000 euro, circa 89.000 euro per il trasporto degli alunni. Negli ultimi anni, cioè dal 2011 fino al 2011, il Comune ha potuto usufruire anche di un contributo regionale di 10-12.000 euro l'anno. Dal 2011 questo contributo dalla Regione non è stato più erogato. Poi nel 2003 i ragazzi che usufruivano del servizio e che quindi contribuivano con la quota annuale a pagare il servizio erano circa 88-90 ragazzi. Nel giro di 10 anni, visto che siamo nel 2013, i ragazzi si sono pressoché dimezzati perché adesso i ragazzi sono circa una cinquantina i potenziali alunni che potrebbero usufruire del servizio. Tutti gli anni il Comune è costretto a rivedere all'insù la quota del costo dello scuolabus per adeguamento Istat. E anche questo, sebbene l'adeguamento Istat sia in percentuale basso, però non fa altro che aumentare i costi. Alla luce di tutto questo, qual è il contributo che viene chiesto alle famiglie? 90.000 euro circa è il costo annuale del servizio. Alle famiglie viene chiesto circa il 10%, cioè intorno ai 10-11.000 euro di copertura del servizio, che è una goccia se si pensa a quello che costa. Pensiamo che l'aumento di 6 euro al mese, su quella che è la fascia di maggior contribuzione di 3 euro al mese sulla fascia intermedia, sia tutto sommato una goccia in più che è stata chiesta alle famiglie, sia una cifra più che altro simbolica per chiedere a chi usufruisce del servizio di contribuire maggiormente. Cosa pensate di fare per il prossimo anno? Sì, quest'anno per quanto riguarda lo scuolabus era difficile intervenire, anche perché quest'anno è l'ultimo anno dell'appalto che è ancora in essere. Da quest'anno, in primavera, scade questo contratto di appalto, verrà rifatto un nuovo contratto, per cui l'amministrazione si impegna fin da adesso a studiare per l'anno prossimo un tipo di servizio con dei percorsi alternativi. Adesso vedremo come intervenire per cercare di ridurre il costo totale di quello che è il servizio scuolabus e naturalmente anche per ridurre il costo poi alle famiglie, famiglie che verranno informate per tempo, magari con una prescrizione fatta con largo anticipo, che permetta loro di sapere per tempo quale sarà la tariffa che dovranno versare e all'amministrazione comunale di poter organizzare meglio il servizio conoscendo con anticipo il numero dei ragazzi che andranno a usufruire del trasporto scolastico.